francia e romania ci hanno fatto il biscotto ignobili sono vergognosi vergognosi se non bastasse finalmente si è si è dimesso di biaggio perché non ci capisce nulla di calcio finalmente finalmente si è dimesso non ci capisce niente niente questo è il commento generale no del tifoso italiano medio ma qua andiamo oltre il tifo qua andiamo oltre 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 parlo proprio dell'italiano medio che 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 agisce così che pensa che pensa così perché perché ignorante l'italiano medio è ignorante cioè ragazzi scusate in questo video sarà un sarò più pesante del consueto e io sono italiano e io mi sento ignorante quanto italiano mi sento molto ignorante ma l'italiano medio è ignorante cioè non è inutile che ci giriamo attorno l'italiano medio è ignorante cioè ci facciamo le vittime nel momento in cui francia e romania fanno il biscotto quando noi siamo i primi che nella stessa situazione avremmo fatto anche di peggio se si si se potevamo agire in qualche modo peggiore siamo i primi e poi cosa in cosa siamo maestri in cosa siamo maestri ad addossare colpe cioè a non prenderci le proprie responsabilità siamo maestri ad addossare le colpe sempre agli altri oppure siamo bravi nel risolvere il problema prendendoci la testa di qualcuno in questo caso di biaggio problemi di biaggio di biaggio lui non capisce niente eliminiamo lui capro espiatorio a posto peccato che poi guarda caso i problemi non si risolvono lo stesso guarda caso per magia non si risolvono mai problemi forse perché il pesce inizia a puzzare dalla testa forse forse sarà per questo motivo no ma noi siamo bravi no riduciamo il problema ad una sola unità in questo caso di biaggio lui il problema eliminato lui eliminato il problema giusto giusto peccato che poi il problema lascia lascia degli strascichi e si si ripercuota sempre di più in avanti peccato questo ma noi siamo bravi ma noi c'è un detto c'è un detto tipicamente lucano del mio paese della mia terra che dice a gatti potenza come fa così si pensa cosa significa traduco la gatta potentina come agisce così pensa che agiscano gli altri e questo e questo è il popolo italiano questo è il pensiero comune del popolo italiano che come agirebbe lui pensa che giustamente agiscano gli altri in questo caso francia e romania noi saremmo i primi saremmo i primi che avremmo fatto altro che biscotto noi altro che saremmo i primi perché l'italiano l'italiano si sveglia la mattina pensando a come deve fregare il prossimo questo è l'italiano medio questo è l'italiano medio quindi è noto che adesso oddio ci hanno fatto il biscotto sono tutti degli esseri ignobili e cattivi quando noi saremmo i primi quando noi saremmo i primi prendiamoci le nostre responsabilità sto pensiero del cazzo deve deve svanire cioè dobbiamo dobbiamo un pochettino evolvere cioè parliamo sempre di di evoluzione no di stare al passo coi tempi di questo e poi siamo dei trogloditi abbiamo un pensiero veramente da eremita da eremita cioè sempre sempre ad addossare colpa agli altri mai guardare in casa propria mai guardare in casa propria ed eliminare un problema reale quando sussiste questo problema reale mai cioè il problema è sempre gli altri abbiamo abbiamo una nazione della miseria questa volta arriviamo in finale ma non siamo arrivati in finale perché di piace scarso e perché giustamente ci hanno fatto il biscotto se no l'europeo non ce lo levava nessuno è no nessuno proprio non funziona così non funziona così purtroppo non funziona così eh mannaggia 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 cioè analizziamo analizziamo quello che è stato il cammino analizziamo quello che è stato il cammino dove si può migliorare cerchiamo di guardare il tutto con una visione a 360 gradi cioè può anche essere vero che nella fattispecie magari è stato di biaggio all'avere accumulato troppi errori magari sì perché no però per esperienza fatta cioè per esperienza fatta io sono interista e ne ho visti di allenatori cambiati sulla mia panchina ne ho visti ma ne ho visti ma ne ho visti eppure eppure da 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 il risultato poi finale è stato sempre lo stesso guarda caso un po guarda caso guarda caso cioè io mi scuso mi scuso se qualcuno si sarà sentito ferito ma se quel qualcuno si è sentito ferito forse è perché non sono andato così lontano dalla verità cerchiamo di veramente di evolverci una buona volta di non addossare colpo agli altri cerchiamo un pochettino di guardare in casa nostra cerchiamo di farlo e magari così facendo prima o poi un europeo un mondiale quel che sarà lo diciamo davvero magari ma finché siamo così ristretti non credo proprio un grande abbraccio da Neschio ciao